La Virtus Francavilla accelera sul mercato e soprattutto prova a far suo i principali giovani emergenti nel panorama calcistico italiano. Dopo aver portato alla corte di Calabro il portiere Abella e aver praticamente definito con l'Atalanta la trattativa per Solcia, il prossimo colpo potrebbe essere Tommaso Di Marco, classe 2003, 19 anni da compiere a fine mese e un futuro che sembra già scritto tra i grandi. Quindi messo si in mostra nelle giovanili di Provercelli e Torino, nella prossima stagione sarà la sua prima volta tra i pro, 28 presenze per lui nell'ultimo campionato primavera con dite da due gol e un assist. Ha fatto parte anche dell'Under 17 e dell'Under 18 azzurra, può agire sia da play che da mezzala, in dirittura d'arrivo anche un altro paio di innessi per la Rosa di Calabro che potrà così lavorare con gran parte della Rosa della prossima stagione sin dal ritiro. Il sogno per il centrocampo, come già detto, resta a Rigoni, ex Lecce ufficialmente svincolato dopo l'esperienza al Teramo. C'è da registrare anche una seconda cessione, dopo quella di prezioso all'Ancona, saluta un altro protagonista dell'ultimo campionato, vale a dire l'assistman Gabriele Ingrosso, che si è legato con un contratto triennale al Pordenone.